6 7 6 forse ecco faccio un buco da 6 e dopo io vado a metterli dentro un chiudino cioè il diametro è 6 mili per che me lo sento io ogni tanto per non far fuggire vado a mettere un chiudino il problema è fermare quelli interni la distanza tra un foro e l'altro essere di 5 abbiamo detto 5 centimetri e fa 5 centimetri poi dopo se viene 4 e mezzo non c'entra dopo sui lati cantonali dopo magari faccio delle modifiche